Saliamo di categoria con i G3 e G4, finale B, Spinelli, Molinari, Bonizzi, Pellegrini, Grini, Stolfi, Cattaneo e Martatelli ed è subito al comando l'atleta del Vigiemano Giulio Trattana con la taglia numero 471 e lui che si occupa di dirigere la finale B della categoria G3 e G4 in seconda posizione l'atleta dell'Occiate Comasco a seguire il Loreto Le Marmotte poi ancora il team BMX Pesnate con Mandatelli ma è ancora Cattaneo e lui che chiude in prima posizione